Oggi è martedì 14 febbraio, buongiorno a tutti e benvenuti alla rassegna stampa di Fano TV sul canale 17. Come tutte le mattine ci ritroviamo insieme, siamo sempre di più, siamo sempre tanti per sfogliare i giornali del mattino, il resto del carino, il Corriere Adriatico. Vediamo il santo di oggi, oggi è il 14 febbraio e molti si ricorderanno del gioielliere di fiducia che è San Valentino, San Valentino martire, il sole sorto alle 7.07 e tramonterà alle 17.37 minuti, il cielo oggi sarà parzialmente nuvoloso, temperatura in lieve diminuzione però avremo oggi e domani tempo buono, addirittura domani guardate la regione come non si vedeva da un po' di tempo con cielo assolutamente sereno, senza nuvole, con temperature in aumento nei valori massimi, poi per giovedì ancora tempo stazionario, bello, con temperature ancora in aumento, un anticipo se vogliamo di primavera, poi però l'alta pressione, questa struttura di alta pressione cederà un po' e favorirà un debole peggioramento per il fine settimana. Fossombrone, la tragedia che si è consumata ieri pomeriggio intorno alle 14.30, un destino beffardo che si è abbattuto su questa donna, il Frida Facchini, 68 anni, sposata, pensionata, che è deceduta dopo un incidente stradale che è avvenuto praticamente davanti a casa sua a Isola di Fano, siamo nei pressi di Fossombrone in provincia di Pieser Urbino, la donna si trovava alla guida della sua Opel Corsa e stava tornando a casa da Fossombrone dove insieme al marito Giorgio aveva trascorso la mattinata a prestare assistenza ad uno zio che è rimasto improvvisamente vedovo l'altro ieri e praticamente come dicevo la tragedia è avvenuta sotto gli occhi increduli del marito che stava con la macchina dietro, insomma, questa è la notizia che troverete sul resto del carlino di questa mattina. Sempre restando a Fossombrone sulla vicenda di post sprint, tutti i risarciti, quelli che fecero la class action contro questa agenzia che praticamente riscosse a quel tempo i bollettini ma non pagò gli enti competenti. I loro soldi, i soldi di questi utenti che pagarono le bollette in questo ufficio non finirono mai nelle casse degli enti appunto, come l'Enel, Telecom e quant'altro. Addio all'industriale di razza Berloni, dal mulino di famiglia fino al petrolio, ha dato lavoro a tanti e un imprenditore che ha festeggiato i suoi 91 anni lo scorso 2 febbraio era nato a Cartoceto, aveva 91 anni dicevo e si è spento l'altra mattina alle 9.30 nella sua casa di via Vanzolini. Alberto Berloni, se ne è andata una persona la cui caratura era pari solamente alla sua discrezione, una di quelle fatte con lo stampo antico di cui si è persa traccia ai nostri giorni, scrive il Carlino di oggi. Andiamo sulla pagina di Fano, eccola qua, la crisi ha cambiato la città, il turismo settore trainante, in calo industria, edilizia e pesca, servizi, cura e tempo libero 42% di occupati. Sono i dati che emergono da questo studio e siamo qui nel settore dell'urbanistica dove ieri l'assessore Marco Paolini ha illustrato dati piuttosto allarmanti. Poi le donne del Consiglio Comunale di Fano dicono no al sessismo in politica, meritiamo più rispetto. E poi sotto la cronaca con la notizia di un fanese di 37 anni che è stato amponato e poi è scappato, non avevo tempo da perdere. Adesso questo 37enne che ha tamponato rischia una denuncia, rintracciato però nel giro di poche ore dalla Polizia Municipale di Fano. Carnevale. Carnevale la città non ha capito lo show di Pirovano. Oggi invece in scena va il Carnevale degli Innamorati in piazza 20 Settembre con appuntamento alle ore 18, però la città non ha capito lo show di Pirovano perché sono stati strappati soltanto 187 biglietti contro i 600 posti disponibili e c'è rammarico chiaramente perché sono troppo pochi per questo mistero buffo portato in scena a teatro. Topi di appartamento in azione, Amarotta, furti e danni in due case. Come difendersi giovedì c'è un incontro con i carabinieri nel tardo pomeriggio di venerdì tra le 18 le 20. È stata la volta di un'abitazione in via Illica nella parte nord dove una banda di ignoti, approfittando dell'assenza dei proprietari, è penetrata all'interno cercando denaro e preziosi. Sono notizie che ormai vediamo continuamente, tutti i giorni, di questi topi di appartamento che ormai entrano a qualsiasi ora del giorno e della notte in qualsiasi luogo e portano via di tutto, anche il formaggio che abbiamo visto l'altro giorno. Poi lo sport, qui siamo sulla pagina del Corriere Adriatico, ieri il Fano all'Alma Juventus Fano ha vinto 2-0 in casa contro il Teramo, Fano e ossigeno puro, due reti nel finale piegano il Teramo, dicevo, e rilanciano i Granata. Ma che sofferenza, il primo gol al 26esimo della ripresa, poi nel recupero germinale raddoppia su rigore. È davvero, è ossigeno puro anche e soprattutto per la classifica che vedete è pubblicata sul giornale di questa mattina. Fano è all'ultimo posto qua in fondo insieme al Teramo con la quale squadra appena appunto ha giocato e ha vinto. Quindi è ancora lì a 19 punti, ma insomma speriamo nei prossimi incontri. Adesso la pagina di Fano del Corriere Adriatico, eccola qua, sempre sul tema del Carnevale. Festa in piazza per l'incontro tra Cupido e Amorino. Tappeto rosso ed elegante limousine San Valentino per gli innamorati. Oggi c'è questa festa in cui si celebra appunto l'amore. L'appuntamento è alle ore 18 in piazza 20 Settembre a Fano. Per l'occasione la piazza verrà addobbata con un grande tappeto a forma di cuore. Alle 16.30 invece al Teatro della Fortuna si parlerà di Carnevale nell'ambito di un incontro organizzato dal Circolo Bianchini. L'idea del Presidente degli albergatori è unita a quella dell'intitolazione delle vie ai carristi. Sapete che per l'occasione a Fano alcune vie, quelle più importanti del centro storico, sono state rinominate con i nomi legati alla manifestazione carnevalesca. La più bella della prima sfilata, l'hanno immortalata tutti i fotografi intervenuti alla prima sfilata del Carnevale, era davvero la più bella maschera, raffinata nell'aspetto ed elegante nei modi, anticipava l'incedere tra la folla del carro Costa Parchi, un carro promozionale, però era davvero una bella, bellissima maschera quella che si è vista e che vi abbiamo mostrato un po' tutti quanti. Difficoltà e critiche, ma la manifestazione comunque del Carnevale vince. Il nuovo direttivo si misura con la stessa carenza di finanziamenti del passato. Qualcuno ha criticato la qualità dei carri, poi però subito il discorso è finito, si è infilato sul problema dei soldi, non ci sono soldi a sufficienza per realizzare carri di una certa sostanza, di una certa qualità. Commissione, sempre dal Corriere Adriatico, commissione d'indagine. Dal Partito Democratico arriva adesso il Via Libera sull'aeroporto. la Cucchiarini dice vogliamo valutare tutti gli strumenti per fare chiarezza. Oggi primo esame della proposta del Movimento 5 Stelle che giovedì va in consiglio. Emendamenti in vista. Video sorveglianza sotto invece per i reperti archeologici. Un'azienda, un'azienda che si occupa di video sorveglianza, realizza un impianto contro il furto di tessere del mosaico come souvenir. E poi fanno città dinamica, occupazione nel terziario, tra servizi e commercio, il 67% dei lavoratori, boom di imprese, poi grave crollo con la crisi. Dalla pagina della Valle del Cesano, la velocità killer delle auto, il Comune interviene, siamo a Marotta. Ecco la notizia di suo asore installato in via Primo Maggio. I residenti lo chiedono anche per via San Lorenzo, perché in questo tratto di strada le macchine vanno velocissime. Nelle strade strette secondarie spesso non si rispettano i limiti del codice della strada. Poi come imparare a prevenire furti e truffe? Lo ricordiamo, giovedì c'è questo Vade Mecum e consigli da parte di Carabinieri e Polizia Municipale. L'appuntamento è alle ore 21 nella sala della Croce Rossa di Marotta. C'è questo incontro su come prevenire furti e truffe. Ed è un appuntamento al quale siete invitati ed è sempre bene sapere come eventualmente fare per qualche accorgimento in più e per evitare brutte sorprese. Poi a San Lorenzo in campo, questa è la foto con il sindaco dell'Onti, con la presidente del FAI provinciale Malpassi. Il FAI torna a visitare San Lorenzo e il Tiberini. Il tour programmato per sabato in occasione della piece di Solenghi. Poi l'ultima pagina, andiamo quasi le ultime pagine di questa rassegna stampa. Andiamo su quella di Senigallia. Atti vandalici, atti vandalici senza fine. Ora chiedono e vogliamo le spy cam, le telecamere, petizioni in via Baroccio e alla Vivere Verde. Perini dice molte telecamere qui sono fuori uso. Andiamo sulle due pagine di Pesaro. C'è la notizia che riguarda il cantiere, quattro mesi di cantiere in via Milano, si mugugna, iniziati i lavori per la pista ciclabile, ma i commercianti temono danni e ripercussioni economiche perché ci sono posti autoridotti che dicono i commercianti rischiamo di perdere parte della clientela e dunque si stanno cercando delle alternative. Mentre la cronaca ci riporta anche questa notizia che riguarda la Polizia Stradale di Fano che ha fermato un autobus che trasportava persone a basso costo. Controlli, multe, percorsi di viaggi tra l'Italia e l'Albania finiscono nel mirino della Polstrada sanzionate aziende di trasporto fermate fantasma al casello della 14 per caricare passeggeri abusivi. Si mira a stroncare dunque così la concorrenza sleale. elevate anche diverse contravvenzioni per la mancanza di requisiti di sicurezza negli autobus. L'ultima pagina è quella di Urbino. Le ultime due pagine. Riforma Ersu in primo piano. Oggi si vota ma piovono emendamenti. Presidio di sindacati e studenti davanti al Palazzo della Regione. Poi anche qua sul Correa Adriatico la notizia dell'auto che è sbandata dentro una signora di Isola di Fano che è deceduta. Il marito le stava praticamente dietro e la vede morire. I coniugi rientravano da una visita per un lutto familiare. Si tratta di Elfrida Facchini, scrive il Corriere. Di Fossombrone forse è stata colta da malore. L'informazione torna questa sera alle 20.30 con occhio alla notizia. Vi ricordo che per tutte le segnalazioni anche da Fossombrone c'è questo numero qua 338 4968 250. A voi tutti gli auguri di una buona giornata. Arrivederci. Grazie a tutti.